Ciao cuoricini, ciao, 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 come state? Allora, oggi vi voglio leggere una pagina del libro che sto leggendo, ho visto il film diverse volte che io adoro e lo sto leggendo pianino, allora oggi visto che ci sono due capitoli un po' cortini, volevo leggerli in inaudible, allora ho acceso questa candela, coccola d'inverno, coccola d'inverno, con cannella, c'è dentro la cannella, per fare un po' di atmosfera. Il libro è Dracula di Bram Stoker, Dracula, e qui lo vediamo. Voi rilassatevi, spero di rilassarvi, mi raccomando. Ringrazio tutti i nuovi cuoricini e tutti gli altri cuoricini di sempre. aiutatemi a crescere con un bel pollicino in su e con l'iscrizione al canale. all'iscrizione al canale. Allora. mi spiace se sentite qualche rumore, però ho il cattino che corre su e giù, fuori stanno tagliando qualcosa, perchè adesso iniziando le belle giornate, tagliando le sedi, tagliando le arrabbi. Purtroppo ho questo momento per registrare. Purtroppo ho questo segno, dove sono arrivata. Purtroppo è di Amazon, mi ha rivelato mio nipote e mi ha fatto gli auguri. Allora, lo uso come segna pagina e sono arrivata alla pagina 185, 185, 185. Allora, iniziamo. Capitolo quattordicesimo, quattordicesimo. Allora, partiamo, ragazzi. 5 . Grazie a tutti. 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 Di vampiri, di dracula, di queste cose qua, di streghe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.